E' uno dei conti più notti del cinema e della televisione italiana, parliamo di Nicole Grimaudo. Nicole Grimaudo, si è, è da, vita privata e curiosità sull'attrice Nicole Grimaudo è nata a Caltanero 1.022 a Abra al 1980. È crescita in una famiglia molto indica, ad uso del Macfiori, Maria Vittoria e Simone. Nel 1994, Nicole va a Roma per provare la sondra del Macfiori, nella capitale per studiare all'università. Decide di prolungare insuosopciorno per sentare la fortuna e ai trovi mi vino nel Arai. Viene scelta e debuta nel programma di Italia 1 diventando una del ragazzo Chihuamate e conducendo anche al film e puntate al posto Uriam Brangiolini. Nel 1996, debuta come attrice Insorellina e Inprinsa Pidelsso, un nuovo seguito da altri successi e serie TV come El Inspector Ecoliano. Il bello del Dan, Medigina Gennaro le dì il mostro di Firenze. Nel 2008 torna al cinema con un giorno perfetto e varia seguito da altri film. Nel 2011, vacia toda la fortuna, ele amore famale e huercas. Nel 2013, la bebe protagonista di One and you are no papa, mentre dal 2017 e testimonial di Yamilino Unrianto con Giorgio Pasop. Nel 2018, bestia e family di Francesca e l'Ingaturi la serie. Nel 2018, bestia e l'Ingaturi la serie.